In piedi è ingessato, in studio, no? Allora, devi sapere che Massimo Lopez lo rincorro da almeno un anno e ho dovuto aspettare, anche nel suo caso, che si riducesse così per poterlo avere in studio. Siete entrambi in ottime mani, divertitemi ragazzi! Grazie! E l'hai già annunciato tu, Massimo Lopez! Ma... ciao! Ciao, ciao! Ma... Ciao, bene, bene! Mi sa che ti ha fatto lo sgambetto e ti ha... No, no, infatti, allora diciamo che io sono venuto a piedi e sono qui... Tu sei venuto a mano... A mano? No, ma a mano a mano che io venivo a piedi nel frattempo lei era ricoverata a casa diciamo, siamo... Sì, no, infatti, siamo veramente il trio tristezza, il trio fastidio Ma adesso tu che numeretto hai? Perché deve venire l'infermiera Eh, io c'ho il numero 23, tu hai il 22, mi sa che ci sei prima tu Ti porto io ai raggi dopo Perché mi devono sfasciare il piede, cioè levare le fasce e non sfasciare il piede Sì, ma qui c'è tutto, c'è l'ambulatorio, c'è tutto C'è tutto, è tutto Comunque stai bene? Sto bene, sto bene Nessun dolore, perfetto No, ne abbiamo parlato prima, telecamere spente Ci siamo confrontati, anche tu senza dolore Il Scala è stato meraviglioso Scusa, è una cosa che dovevo dire Lo salutiamo il professore Lo ringraziamo per averti curato nel migliore dei modi Assolutamente Senti, intanto benvenuto ancora Grazie, grazie Sono veramente molto felice di vederti Sono, siamo tutti i tuoi fan, il fan del trio, fan tuo Noi ci siamo visti diverse volte anche in altri show Tante volte La prima volta che parliamo, però ci siamo incrociati in qualche altro programma Ti ho anche ripreso una volta Sì, mi ricordo Con una telecamerina sotto la telecamera che riprendeva quella ufficiale Ho fatto un backstage Senti, ma questa cosa dei microfoni che tutte le volte Insomma, gli apparecchi elettrici con te non è che vanta Allora, guarda, io ti dico soltanto una cosa Mi prendono in giro tutti Tutti mi prendono in giro con questa storia dei microfoni Francesca, mi prenderai in giro anche tu con questa storia dei microfoni Perché ogni volta che Anche quando sono andato a fare un elettrocardiogramma una volta E' andato in parola Io ero lì fermo e c'erano tutti i dottori che dicevano davanti ai macchinari Non capisco perché sta cosa non funziona Dico, non vi preoccupate, sono io Perché non funziona mai nulla di elettronico Ma anche quando vai in banca, tipo, si ferma la... Si ferma tutto C'è che c'è la giostra, no? Si, si blocca tutto E vedi, per esempio, questo è un problema per me Perché ogni volta che mi danno un microfono Poi dicono, parla, vedrai che è tranquillo E io inizio a parlare E sa cosa Pisci quello che dico Pisci o no? Senti, voglio farlo vedere anche a casa Uno sketch meraviglioso che avete fatto tu e una tua bravissima collega Guardiamo Sì No ragazzi, però con Massimo Lovest, le figure... Prova questo, prova questo, prova un po' questo qui Scusate per questo... Scusate per questo... Ed hanno sempre questa... Ed è sempre questa... Ma è un fatto... Ho dato tantissimo... So sta succedendo Sempre uno, due, uno, due, uno, due... Arriva fino a due Non è uscito, è uscito il... Ovalo Eh, io lo provo Eh, ho un problema... Il microfono credo Problema che non è Io lo provo When my rhythm starts to play Dance with art to play Dance with art to play Dance with art to play I can lift, I can lift, I can lift, I can lift E, oh, e, oh, ah, ah Cosa di microfoni? Possibile avere due microfoni... È possibile avere... Due microfoni seri? Grazie meraviglioso bravo cioè lì c'è proprio un uso anche della gola salutiamo innanzitutto Virginia Raffaele grandissima astica osa proprio c'è proprio un uso della gola vedevo anche Virginia che muoveva sbatteva proprio questa parte c'è proprio un'arte noi ci siamo conosciuti proprio così una volta in diretta vi siete parlati a scatti e continuiamo a farlo ogni volta che ci vediamo è proprio un gioco fra noi è un esercizio proprio è un giochino che io ho sempre amato fare queste cose giocare con la voce ma si vede la padronanza io la vedo, la percepisco senti ma adesso con questa intervista io voglio fare un elenco dei personaggi e adesso comincio da un personaggio mitico che conoscono tutti o almeno quasi Bruce Lee che è stato un grande lottatore di Kung Fu e anche attore tu hai doppiato la voce di Bruce Lee ma in cosa consiste doppiare Bruce Lee ti prego significa esagerare fare queste cose e andare anche a sync riuscire a fare queste cose sì erano i primi doppiaggi che facevo così e oggi se mi dicessimo di doppiare una cosa del genere forse direi no facciamo una cosa più esatto più tranquilla perché poi c'erano anche pochi cioè voglio dire i dialoghi erano veramente pochi proprio solo effettistica tu molto sì molto effettistica sì 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 ma questo mi succede anche con i cartoni animati dove ci sono suoni cose insomma è un bel gioco la voce è uno strumento meraviglioso meraviglioso quindi io leggo anche che tu hai doppiato Robbie Williams Robbie Williams Ben Kingsley sì sì come cioè nomi grandi attori Colin Firth Colin Firth sì sì la cosa bella è questa che che metti in pratica in atto quello che è il mestiere dell'attore poi alla fine perché poi nel doppiaggio è meraviglioso perché non è che devi imporre il tuo modo di recitare ma devi recitare come recita quell'attore lì non la voce rispettare quella esatto quella vocalità quella voce quell'età quella fonia se ha una faccia larga ti viene la voce da faccia larga insomma ci sono ci sono ci sono anche persone che magari parlano hanno più un atteggiamento così no? particolare io sono affascinato dal dal ci sono altri personaggi che possono parlare possono parlare così caro figliolo tu vedrai che farai grande strada nella vita questo signore potrebbe avere anche un'ottantina d'anni certo e se tu dovrai fare quello che ti dice mamma ascoltalo papà senti quello che dice certo che devi ascoltarmi e che cosa può dire? cioè ci sono senti facciamo una prova scusa come mi doppieresti per esempio eh dobbiamo dire una frase eh io no è assincrono Franci tu che sarai sicuramente assincrona perché purtroppo il collegamento non ci aiuta come potresti essere doppiato? proviamo proviamo allora allora facciamo facciamo una lezione piccola in società di doppiaggio per Francesca mi piacerebbe che tu riproducessi eh ti ricordi quando facevo nei promessi esposi la monaca di Monza? è indimenticabile ecco e io dicevo sapevo che dicevi indimenticabile lo sapevo benissimo allora quindi dovrai dire con questo con questo ritmo sono io la monaca di mmm Monza quindi è difficile adesso guarda il tempo è questo sono io al tre sarà così uno due tre poi tu parti e dovrai dire senza dirlo ovviamente muovendo solo la bocca dovrai dire io la monaca di mmm Monza ecco quindi proviamo eh allora al tre uno due tre io la monaca di mmm Monza bravo hai preso anche la latenza del collegamento del collegamento e poi il bello che stavo partendo io muto vabbè senti ma Franci Franci ti lascio un attimo a Massimo vai perché è bellissima sta roba ma no ma perché tra le tante curiosità che possiamo avere su Massimo Lopez e tante cose che magari il pubblico non conosce no c'è un inedito non si è sentita tanto in giro o perlomeno non è così nell'aria una canzone che ha a che fare con Mina e con Massimo Lopez sì com'è successo quell'aneddoto com'è accaduta questa cosa Massimo ma questa è stata una cosa forse una delle cose che mi hanno più emozionato nella mia vita perché ovviamente da grande fan ma non solo io tutti di Mina sentire un giorno mentre sei a casa che squilla è lei siamo noi squilla il telefono squilla il telefono e rispondo faccio pronto sì sono Mina quindi per me dico come è possibile cioè mai conosciuta mai incontrata poi ti deve telefonare qualcuno per conto suo non lei direttamente quindi tu l'hai riconosciuta subito dalla voce dalla voce ho capito che era lei che non era uno scherzo sono Mina e io rimango ammutolito guarda ho avuto il numero di telefono da tizio mi dice un nome siccome mi piace la tua voce lo faresti un pezzo con me e io rispondo mamma mia che emozione che cosa no 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 ma tranquillo 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 guarda adesso io se tu sei libero io ti mando il pezzo se questo pezzo ti piace tu sei libero fra 10 giorni lo facciamo se ti piace lo facciamo e io dico guarda mi piace già mi piace certo che mi piace e quindi dopo 10 giorni mi trovo ad andare a Lugano e dire che ero in macchina con l'autista che mi portava dall'aeroporto di Milano a Lugano e chiedevo a questa autista mi sa dire com'è Mina cioè come carattere perché chiedevo a lei ma lei dice no ma io non la conosco e incontro a Lugano Massimiliano Pani il figlio e accompagnato da Gabriele Comeglio musicista jazzista della jazz company il quale Gabriele Comeglio che ho conosciuto col quale abbiamo ho collaborato e adesso continuo a lavorare insieme facciamo spettacoli da 15 anni dal 2003 quindi lui suona con te suona con me big band jazz company quindi è un jazzista straordinario sassofonista clarinettista insomma veramente straordinario bene allora con lui ci mettiamo a parlare con Massimiliano Pani prendiamo un aperitivo prima di andare all'appuntamento da Mina e a un certo punto Massimiliano Pani fa oh è tardi chissà poi mia madre chi la sente ma come no ma che mi fai arrivare tardi al primo appuntamento arriviamo davanti allo studio apriamo si apre la porta e vedo lei statuaria seduta lì alla console e io che volevo fare il disinvolto sono lì così che faccio eccoci qua e lei fa fatti dare un bacio io mi avvicino a lei mi abbraccia e io ero incredulo mi fa ma allora ti è piaciuto il pezzo ti piace? ah sì è bellissimo mi piace moltissimo allora facciamo una cosa inizia tu il pezzo adesso ti accompagno in sala di incisione vai al microfono e tu canti cominci tu poi subentrerò io al che scusa io mi fa ti accompagno faccio no 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 come dire vado io so bene io come una sala di incisione la console so bene vado io non ti preoccupare vado là e apro ma non apro la porta apro un armadio cioè quella era vabbè ci sta dai l'emozione totale ci sta ci sta che bello ma tu hai lei avrà inciso alla prima e tu avrai avuto un po' di emozione io ho fatto un po' di prove per conto mio mentre provavo per conto mio lei lateralmente c'era questa porta che si facciava su un piccolo prato lei coglie tre margherite e me le mette sul microfono insomma una meraviglia abbiamo poi inciso insieme il pezzo una volta e alla fine lei poi mi ha detto abbiamo parlato del più del meno mi ha detto ma ma tu che bello se penso che vai in tournée che giri continuamente di qua e di là con aria trasognata e dico se penso se penso che l'ho fatto per tanti anni beh potremmo farlo insieme ho detto io e lei oh Dio ti immagini io girare mamma mia ma lei era venuto tipo voglia di partire qua no è proprio ha detto questa cosa così ho detto te l'immagini che bello che sarebbe vabbè fatto sta che poi alla fine mi invita non se ne ha fatto niente come? quindi non se ne ha fatto niente cioè perché cioè tu hai quasi tirato fuori Mina dal suo nascondino avresti potuto eh avrei fare una tournée insieme a lei ho detto dai perché non la facciamo insieme e lei ha fatto ma te l'immagini no per carità quindi come dire è rientrata è rientrata subito però però ecco dopo siamo andati a casa sua lei mi ha detto ti preparo qualcosina da mangiare siamo andati in cucina non ti formalizzare se ti invito in cucina che bello ragazzi è stata una cosa meravigliosa veramente un sogno senti Massimo nella tua lunga lista di personaggi che imiti non possiamo non citare il santo padre oh sì addirittura tu imiti i papi del medioevo ma io tutti i papi tutti i papi ho un contratto proprio che con la santa sede con la santa sede ti hanno dato la dispensa sì ma mi ha detto devi fare tutti i papi e io ho cominciato intanto innanzitutto ho cominciato con giovanni ventitresino poi sono andato con paolo sesto sì ma io ho una testimonianza adesso la facciamo vedere anche nelle persone a casa guarda un po' anche il papa fa la pappa ma chi prepara la pappa è il papa la pappa è il papa la prepara l'altro pappa che è venuta a trovarmi è il mio amico Ratzinger questo è il giorno di grande gioia è una gioia reciproca vieni in tavola che la pasta che cosa mi hai preparato oggi spaghetti o tagliolini ho preparato un sugo succellato un sugo che cos'è questo sugo succellato scusa mi è scappata la voce tua no che ognuno si faccia i papi i suoi hai ragione tu fatti i papi tuoi che io mi faccio i miei questo sugo di oggi o mi scappano sempre altri papi fai papà topo fai topo papà topo papà topo topo gigio ma no topo cari fratelli e sorelle ma cosa mi dici mai topo di topo di prima anche papa è di prima fratelli e sorelle no questa è prima tornando a casa no questa è prima allora ancora prima c'è ma regà mi portate in portatina si o no è questo che papa è è pietro il primo papa che è Roma meraviglioso ma secondo me guarda la passione fa sì che tu possa imitarli se vuoi puoi farlo anche tu il papa posso chiedertelo fai Gregorio VII allora Gregorio VII che tra l'altro credo fosse Ciociaro lui no era di Anagni probabilmente fratelli e sorelle bravo non c'è nulla in San Coccio è uguale uguale grazie a Celestino Guindo sono diventato papa pregate per me così sia ecco quindi avete visto che non ci vuole niente a imitare questi papi perché vi garantisco che la voce è identica esatto senti Massimo bravo Filippo eh grazie me lo ricordo Bonifacio ce lo ricordiamo tutti Bonifacio sì allora io ti dico un altro personaggio gigantesco del cinema anzi un regista Federico Fellini te cosa mi rispondi ma guarda sai che nessuno mi ha chiesto queste cose qua perché io ho l'ho conosciuto e ho girato anche un film con lui un film che si chiama eccolo lì si chiama La nave va ma come fu la cosa io incontrai Fellini e Fellini mi disse mi piace la tua fazza è che ero ma no potresti potresti fare qualcosa ma dico cosa potrei fare non lo so ah vabbè allora presentati domani e facciamo qualcosa dico va bene allora io vado vado lì allo studio al teatro 5 di Cinecittà e mi vestono da marinaio la nave va l'emozione questo studio carico di gente 1500 comparse lui col megafono cappello e sciarpa come il mio vestito da Fellini che dirige a ognuno dice una cosa tu gioca con la palla tu fai questo tu fai quell'altro a ogni ciac una cosa e io fermo davanti a questa nave con una musica classica bellissima sotto al che poi gli dico ma maestro scusi cosa devo fare e non lo so non so cosa fai cosa fai nella vita non si sa cosa succede non si sa tu vedi se vedi che c'è gente che sale sulla nave che non deve salire non la far salire ah ecco così perché nella vita non si sa e quindi questo fascino questa cosa straordinaria una scena girata per una giornata intera che poi lui ha velocizzato in due secondi per cui non mi si vede quindi bisogna fare un fermo immagine un mese un mese di lavoro e poi lo sfogo bellissimo ho il tempo di dirla questa cosa velocissima perché mi siedo non potevo parlare con nessuno dovevo sciogliermi a un certo punto mi siedo a un tavolo vedo Giulietta Masina e di fronte dico guardi io sono lei mi guarda io sono proprio emozionato in questo momento perché una cosa del genere mai nella vita me la sarei aspettata e comincio a parlarle a parlare a parlare a un certo punto lei si alza e se ne va mentre parlo per cui e io ero pensavo che lei guardasse me in realtà era semplicemente con l'occhio così ma per cui però siccome non potevo mi vergognavo poi ho continuato a parlare dopo continuavo a parlare lei si alza va via e io dico perché bisognava fare perché questa cosa mi dà una tale forza perché c'è la gente intorno mi dà una tale forza mi dà una no non è così la battuta come se stessi provando facevo facevo finta di ripetere no meraviglioso dai senti adesso siamo passati da Fellini e passiamo a un a una colonna portante della televisione Pippo Baudo che vi ha ti ha vi ha come trio supportato tante volte anche sopportato come no come no Pippo Baudo è stata la consagrazione la consagrazione del trio questa cosa tua che a me affascina tantissimo è che ma poi era una caratteristica del trio stesso cioè voi studiavate anche il personaggio nella sua totalità cioè le movenze i tratti somatici i cambi proprio anche di faccia questo era entrare proprio nel personaggio per esempio tra Pippo Baudo e un altro grande della tv che è Maurizio Costanzo quali sono le differenze sostanziali? beh sicuramente beh a parte quelle vocali completamente diverse ma poi a me piace passare da dal cioè il Baudo di prima e il Baudo di dopo il Costanzo di prima e il Costanzo di dopo ci gioco molto differenza sicuramente lui era sempre entusiasta con un ritmo straordinario straordinario questo trio è meraviglioso abbiamo deciso che verranno saranno i grandi futuri interpreti della televisione italiana se io chiudo gli occhi vedo Baudo invece Costanzo Maurizio Costanzo che mi disse guarda tu devi farmi devi farmi devi sempre imitarmi me lo diceva lui al che mi sono divertito già dai tempi negli anni 80 che Maurizio Costanzo parlava diceva non so siamo questa sera qui abbiamo moltissimi ospiti straordinari sono ospiti meravigliosi che verranno su questo palcoscenico e vogliamo intervistarli uno per uno questo nel 1980 questo spettacolo è stato meraviglioso anni 90 questo spettacolo è stato qualcosa anni 2000 questo spettacolo è stato straordinario è sulle medio alte adesso quindi possiamo dire che Costanzo si divide in questo 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 e questo e va bene però qualcuno mi ha detto che tu lo imiti non ai tuoi livelli no no vai 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 perché mi diverte sta cosa allora io sto sì diciamo io lo imito nel Costanzo di oggi bravo mi risulta più semplice vediamo se riesco bene allora Massimo Lopez Francesca Gialdini hai capito non sapevo di avere un fratello hai capito hai visto ma li sai annunciare i consigli per gli acquisti come li annuncio io no come annunci tu tu annunciai come vuoi tu io annuncio allora dobbiamo fare insieme più tardi più tardi no adesso Demo sigla Demo vai straordinario che bello senti ragazzi è un show bellissimo da casa non si era mai vista prima una cosa del genere a ruota libera adesso Nex non solo fa il conduttore fa anche l'imitatore ma se fare solo questo poi insomma di fianco a Massimo no 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 vabbè ma secondo me da qua chissà cosa nascerà dai siamo a ruota libera è una minaccia esatto senti abbiamo parlato di Baudo voglio farti vedere il trio vai eh sì a Sanremo bravo esatto ok grazie 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 Denzo Piaggi che ci ha presentato questo suo pezzo meraviglioso che sta attratto dall'NLP ultimo che ha inciso che ha moltissimo successo e sta in testa a tutte le pareghe ok ma prima di passare alla prossima canzone io vorrei dirvi che potete ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo sintonizzandovi su Rai Stario uno due tre quattro cinque che ne so quando va via così manco so che dico allora proviamo sintonizziamoci sulla radio ascoltiamo amici ascoltatori ascoltiamo sintonizziamoci sulla radio vai alla camera il presidente tu sei romantica amica delle nuvole che cercano l'alzù scusa scusa Dallara sono ciotti riprendiamo la linea segnalandovi che al 26 scusatevi segnalandovi che al 26 della ripresa del Festival dopo l'immancabile colpo di testa di Claudio Villa su preciso allungo della Cinquetti Domenico Modugno si involava indisturbato nell'area piccola con la sua indimenticabile ciao ciao bambina non potevamo non rivedere il trio che emozioni lì all'Ariston mamma mia eh sì devo dire a voi avete fatto tre Sanremo 86 87 89 sì senti ti chiedo siccome quel palco lì è un palco magico se tu dovessi incontrare un comico nuove generazioni insomma un nuovo comico cosa gli consiglieresti per andare su quel palco ed essere al massimo livello insomma di bere tantissimo di bere tantissimo no aspetta no no di idratarsi certo no è veramente non saprei cosa consigliargli perché perché anche noi avevamo bisogno di tanti consigli certo perché essere effettivamente lì o come conduttori o come comici o appunto o come cantanti e tu lo sai cosa vuol dire l'emozione di quel pubblico di quella platea che poi è strano perché mi verrebbe da dire ai ragazzi ai giovani a tutti cercate di capire cosa significhi essere su un palcoscenico dal punto di vista teatrale perché tu devi dovresti imparare a essere sul palco capire che il teatro e la comicità ha bisogno di tempi ben precisi tempi proprio tempistiche che a me sono state insegnate proprio in teatro quando ho fatto Pirandello quando facevo Shakespeare quando facevo Goldoni attori grandi del calibro di Alberto Lionello di Giorgio Albertazzi mi insegnavano quelli che erano i tempi comici che se tu sbagliavi una frazione di secondo una battuta quella stessa battuta una sera faceva ridere la sera dopo no e quindi è un fatto proprio musicale no e quindi l'orecchio è importantissimo quindi se tu hai però ti costruisci delle basi così forti tu puoi affrontare forse sì con l'emozione anche se vogliamo anche un Ariston però applichi certe regole che sono quelle del che hai imparato che hai appreso e poi e poi ci provi quindi sicuramente la preparazione lo studio ma questo è normale tu hai citato il pubblico è un anno esatto dall'inizio della pandemia quindi anche per la nostra categoria insomma per il teatro per la musica un anno di situazione sanitaria grave un anno in cui i teatri sono chiusi i concerti non si fanno insomma un anno in cui sentiamo veramente la mancanza del pubblico almeno per me è tantissimo quindi immagino anche per te come come attore io ho avuto poco tempo fa abbiamo fatto l'esperimento di fare uno spettacolo in streaming che non farò mai più nella vita ma non lo farò mai più perché perché si capisce quanto sia fondamentale il pubblico c'è poco da fare è importante non puoi lo spettacolo è fatto da te e dal pubblico assolutamente il pubblico ti dà l'energia la benzina e tu la ridai al pubblico il pubblico la ridà a te e c'è poco da fare sai che ci sono questa settimana che viene ci sono delle importanti iniziative per fare proprio luce su questa su questo desiderio su proprio la voglia di sentire di nuovo il pubblico per esempio domani tanti teatri in tutta Italia si accenderanno accenderanno la loro luce in segno simbolico ci saranno delle mobilitazioni anche per i lavoratori del mondo dello spettacolo in tutte le piazze italiane questo secondo me è una grande cosa perché ma anche perché quella luce lì significa luce ma scherzi luce significa luce esatto volevo ricordarlo insomma senti ma nel 2007 tu fai uno spettacolo che è ballando no? 2007 o 2008? 2007 no sai Filippo come? se oggi tu hai ingestato esatto ma ci volevo infatti quando ha partecipato ballando è successo qualcosa tu praticamente ti sei fatto male quel giorno lì e da quel giorno lì da 14 anni che sei così io non capisco il problema dell'Italia è questo il problema dell'Italia è questo che tu per questioni burocratiche queste lentezze queste cose da allora che mi feci male ancora sto così io sto aspettando che mi vengono a sbendare ecco mentre aspettiamo vediamo un attimo cosa è successo Massimo grandissimo alla gamba c'è l'acqua lì ahia hai slittato proprio lì dove ti hai fatto male possiamo chiamare per favore il fisioterapista o il dottore visto che credo che non potrà rimani qua rimani qua vieni serena vieni tu facciamo venire facciamo venire qualcuno perché è una contrattura si accavalla un nervo e fa male da morire ma senti sembrava una roba tipo bicipite femorale una roba sì ma sai che è incredibile adesso a parte scherzi non me lo ricordavo allora siamo stati noi a ricordargli questa situazione di difficoltà scusaci no no avete fatto non lo sapevo ma del resto sai la carriera di ballerino dopo tanti anni può capitare una volta è certo eh Massimo grazie no io mica vado via eh beh no è dura vado via io non prima di averti detto che ti voglio bene anch'io anch'io ti auguro il meglio Francesca ti mando un bacio gigantesco vostra grazia vuole ecco grazie Massimo grazie grazie a te grazie